Bella zii! Allora vi chiederete il perché di questo video. Dalla, stai buona, fai bravo. Vi chiederete il perché di questo video. Se avete notato i like della nostra pagina Facebook, sono 100.000 quindi siamo qua a ringraziarvi tutti. Vorremmo farlo uno a uno ma non riusciamo, quindi ci siamo riuniti in grande stile con tutta la famiglia. Potete vedere Dalla, Sdea, siamo tutti qui e vi ringraziamo davvero perché questo è un bel traguardo, ma è anche un punto di partenza. Vorremmo che i like salissero ancora e quindi state sintonizzate sulla nostra pagina Facebook e arriveranno delle belle news. Mi raccomando, bravo, questo è il nostro disco, è uscito l'11 settembre tutto da capo e nel frattempo tenete d'occhio i nostri social, soprattutto Facebook e Twitter perché saremo in giro a fare qualche DJ set in giro per l'Italia, nel frattempo in preparazione per quello che succederà nel nuovo anno che saremo a marzo. A marzo saremo in giro in tour quindi ci vedremo anche lì. Come con la copia fisica ci vedremo dal vivo, ci vedremo a suonare un po' dai, non solo sui social che fanno sempre bene visto che ci avete fatto raggiungere questo traguardo e siamo contenti. Adesso bisogna salire anche su Twitter e venite a visitare anche giovannidiversi.it e grazie, 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 grazie. Grazie amici, amici, saluti ragazzi, saluti ragazzi, cadavastro, 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 all the family. Gip!